6 partite giocate, 18 punti conquistati, 36 gol realizzati, 4 subiti, meno di uno a partita dunque. Sono i numeri della capolista del girone B di Serie 2 di Calcio 5, sono i numeri della supercorazzata Maritime Augusta, avversaria del Cristian Barletta domani pomeriggio a partire dagli ore 16, nella non aggiornata del girone d'andata. I favori del pronostico, inutile nasconderlo, sono tutti dalla parte dei siciliani, i biancorossi di Antonio Dazzaro in ogni caso non ci stanno minimamente a recitare la parte della vittima annunciata. Andremo in Sicilia soprattutto perché non abbiamo niente da perdere e quindi ce la metteremo tutta per vendere cara la pelle, per cercare di sfatare la legge dei grandi numeri dove dice che loro sono imbattuti sia in casa che fuori casa, quindi prima o poi può anche succedere ai grandi di cadere, quindi noi venderemo la pelle cara fino all'ultimo secondo e cercheremo di giocarci un'onesta partita. I biancorossi sono reduci dalla vittoria, la prima interna di questa stagione contro il Lido di Ostia. I tre punti sono serviti al Cristian per salire in quarta posizione in classifica in piena zona playoff. Oggi intanto si apre la finestra invernale del mercato. Il sudalizio barlettano ha annunciato le partenze del portiere Giuseppe Di Ciaula e dell'argentino Gaston Bueno. Certo l'arrivo o meglio il ritorno in biancorosso del laterale Giovanni Bizzocca che nella prima parte di questa stagione ha militato in Serie C1 con la maglia dell'Eracchio Barletta. Grazie a tutti.